A secondo tentativo i killer non hanno sbagliato. A settembre scampò miracolosamente a un agguato mortale riportando solo una ferita di striscio alla testa. Questa volta non è riuscito a salvarsi Antonio Tancredi, operatore ecologico di 45 anni, con precedenti per associazione a delinque, restorsione, droga e furto, ucciso a colpi di pistola all'alba alla periferia di Torre Maggiore. Era solo a bordo della sua Alfa 159 in via Lucera quando è scattato l'agguato. I killer hanno fatto fuoco infrangendo i finestrini anteriori della vettura. Tancredi però è riuscito a scendere dal veicolo e a scappare. Ma il tentativo di fuga è durato un centinaio di metri poiché i sicari lo hanno raggiunto e ucciso. Almeno cinque colpi d'arma da fuoco esplosi che hanno colpito l'uomo alla testa. Ad allertare i carabinieri è stata una telefonata del 118. I soccorritori sono intervenuti per un incidente stradale dato che un'opel Astra station wagon guidata da un rumeno era uscita fuoristrada sfondando il cancello di un deposito di mezzi agricoli. Pare che l'autista nel tentativo di evitare il veicolo di Tancredi in mezzo alla carreggiata abbia perso il controllo della vettura riportando nell'impatto lievi ferite. Una volta giunti sul posto i sanitari hanno visto il cadavere di Tancredi lungo la strada e hanno chiamato i carabinieri. Gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Laura Guidotti stanno anche verificando se vi siano collegamenti tra il ferimento di settembre e l'agguato mortale.